Ho il ingegnere di presentarvi l'ingegnere Antonio Tonizzo che innamora per Google America e si occupa prevalentemente ma non solo di progettazione delle server partner di Google. La piattaforma disegna tutto l'arbre che va nei centrati di Google, lo battendo dai server su su fino ai sistemi di rete, il rack ovviamente, il freddamento. Il mio gruppo in particolare è la tecnologia avanzata e si occupa di quelle tecnologie che sono circa 4-5 anni avanti a noi. Non disegniamo un prodotto in particolare, sviluppiamo una tecnologia che può essere presa in mano da qualcuno per sviluppare un prodotto. Vediamo, ecco, questo qua è un'immagine, questa qua è la larghezza del centro dati, non è la lunghezza del centro dati. Immaginate così per circa un campo da calcio. Quelli che li disegnano devono risolvere dei problemi che non hanno niente a che fare con la tecnologia.